ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o princapi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario alla micina 300 a cosa serve alla micina 300 a un medicinale veterinario a base del principio attivo che si tetraciclina di idrato appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico tetracicline è commercializzato in italia dall'azienda via copyright toquinol italia srl alla micina 300 può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare norbro o collaboratori sltd concessionario via copyright toquinol italia srl ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo o che si tetraciclina di idrato gruppo terapeutico antibiotici forma farmaceutica flaconi iniettabili confezioni alla micina 300 in it uno flacone 100 ml alla micina 300 in it uno flacone 250 ml principio attivo 100 ml di soluzione contengono o si tetraciclina di idrato pari o si tetraciclina base 30 g indicazioni a un antibiotico ad ampio spettro indicato per il trattamento di infezioni primarie o secondarie provocate da un'ampia gamma di batteri gram più e gram sensibili all'ossi tetraciclina in particolare bordetella bronchiseptica corine bacterium piogenes erisipelutrix rusiopatiae pasteurella spp stafilococcus spp e streptococcus spp non camico plasma ricchetsiae protozoi e clamidia alla micina 300 ha indicata per il trattamento di infezioni sistemiche respiratorie urinarie locali causate da microrganismi o si tetraciclina sensibili come pasteurellosi polmoniti rinite atrofica malrossino anaplasmosi affezioni articolari e terapia di supporto della mastite aborto enzootico e che erato congiuntivite nella pecora posologia via di somministrazione intramuscolare profonda somministrando alla micina 300 alla dose standard di 20 mg barra chilogrammi pv si ottiene un'attività di 3 4 giorni mentre alla dose elevata di 30 mg barra chilogrammi pv si ottiene un'attività più a prolungata che persiste per 5 6 giorni bovini suini ovini dose standard 20 mg barra chilogrammi pv 1 ml barra 15 chilogrammi pv dose elevata 30 mg barra chilogrammi pv 1 ml barra 10 chilogrammi pv per assicurare il corretto dosaggio determinare quanto più accuratamente possibile il peso dell'animale per evitare il sottosovra dosaggio avvertenze se in parallelo si effettua un'altra terapia usare un differente punto di inoculo precauzioni speciali per l'impiego negli animali non diluire alla micina 300 se possibile l'ossi tetraciclina deve essere usata esclusivamente in base ai risultati dell'antibiogramma un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti all'ossi tetraciclina tempi di sospensione per le carni dose standard 1 ml barra 15 chilogrammi pv bovini ovini 28 giorni suini 14 giorni dose elevata 1 ml barra 10 chilogrammi pv bovini 35 giorni suini ovini 28 giorni per il latte bovino entrambe le dosi 8 giorni per il latte ovino entrambe le dosi 8 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato